allora non possiamo dirvi niente su questo pezzo primo video che facciamo abbiamo aspettato che tornasse Damiano da un raffreddore come nelle migliori tradizioni della resistenza raffreddore vento tutte cose che preludono magari all'arrivo di nuova musica ci credi ci credo non credere non credere Damiano don't believe esatto esatto va bene don't believe ragazzi un saluto ve lo facciamo sentire un pezzettino dai due note proprio si può fare ragazzi Damiano ti prendi responsabilità vabbè comunque la musica di sta canzone non l'ho scritta io non l'ho scritta io chi l'avrà scritta fra quest'uomo e quell'uomo va bene va bene vedremo vedremo